Tutto è cominciato con una semplice frase. Mi stavo chiedendo, ma è possibile vincere su Fortnite usando solo i poteri? Scopriamolo. Signori, siamo Fion... Mio Dio, che casino! Ok? Siamo finalmente sul boot della battaglia. Dobbiamo riuscire a vincere, sarà impossibile, usando solo i poteri. Ovviamente per prenderli dovremmo usare un'arma, quindi uccidiamo Doom, entriamo nel Bolt, prendiamo i poteri e niente, speriamo di portarci la casa. Tra l'altro, stavo facendo una partita e il gioco mi ha buttato fuori, perché c'è un tizio che mi è entrato da computer. Dannazione! Cioè, guardate quanto è bello sto martello! Cioè, è il deltaplano più bello della storia. Cioè, sono veramente il dio del tuo... Guardate che bello! Tor! Tor! Ok, credo sia un po' difficile vincere usando solo i poteri. Dai, ma c'è gente già a terra! Ma dannazione! Allora, speriamo che in questa casa... Cioè, speriamo di trovare almeno un paio d'armi in sta casa, così ci liberiamo di questi qua, prendiamo i poteri, e poi andiamo a vincerla usando solo i poteri. Però prima dobbiamo trovare qualche arma decente, e alzare il volume delle cuffie, soprattutto, perché ce l'avevo bassissimo! Cioè, nessuno! Allora, so che qua sotto c'è un tizio, in teoria... Buongiorno, buon salve! Salve! Salve, la devo un attimo trasportare su, mi deve fare un favore, guardi, niente di troppo rischioso, eh! Non succede niente, semplicemente scansioniamo... Sì, salve, guardi, non sta succedendo niente, ora se ne può tranquillamente andare, e farsi uccidere! Ah 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 ah! Allora, cecchino, buono, pompa ancora meglio, scara ancora meglio, e... che dire? È l'inizio perfetto! Allora, prendiamo la mitraglietta, va! Allora, facciamo fuori un paio di questi polli, giusto per eliminarli, e poi, signori, andiamo a prendere Doom! Sperando, tra l'altro, che non ci abbiano rubato i poteri, ma non penso, esatto! Guardali lì, guardali lì! Tata 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 tata! No, è lui o me! Oh, lui o me, signori! No, no, non posso costruire! Non posso costruire! Mi servono quei poteri! Ehi, cosa pensavi di fare? Cosa pensavi di fare? Vai su, vai su! Satta! Satta! Ah, ce li ha lui i poteri, eh! Aha! E allora, signori, glieli dobbiamo rubare! Glieli dobbiamo rubare, non dobbiamo farlo scappare! Aia! No, no, scusa, scusa, ok! Ok, ok, scusa! Ecco, guarda che ci fa la Genki Dama, dritta in testa! No, è scappato! Ok, ce n'è più di uno! Ce n'è più di uno! Sta volando! Cosa sta succedendo? Non sto capendo, non sto capendo, non sto capendo, ma qualcuno è morto malamente! Allora! No! Che casino, che casino! Allora, c'è un tipo sopra! Scappa! Scappa, ma non troppo! Guardatelo qua! No! E la mano è niente! Va bene! Va bene! Secondo tentativo! Secondo tentativo! Le prenderemo male! E lì c'è un aereo! Ah, è quello dei superpoteri! Che figo! Yeah! Ma, voi che lo sapete, cosa sono sti due cosi? Sti... Cioè, sono tipo i Bifrost? Dio, che bello! Che bello! Sono tipo... Cioè, sono quelli che... Non lo so! E tra l'altro, dove puntano? Boh... Vabbè... Storyline! Ma come si muove? Teo! Abbiamo il pompa Muori E uno è andato Bene che bene Uno è subito morto Prendiamo un altro pompa Prendiamo un altro spor E la fiaccina E c'è il tizio qua Che non è morto mai 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 Togliamo il pompa No dovevo utilizzarlo per i miei scopi malvagi Mi sono dimenticato No Allora c'è un altro Ma che stupidi che sono Che stupidi Allora io direi che con queste poche armi Ci dirigiamo qua da Doom Dai ho visto il tipo Ti ho palesemente C'è uno col pompa caricato Tu muori e stai zitto E il tizio col pompa caricato Fermo Fatemi dare lo scudo Picchiatelo No picchiatelo ho detto Addio Addio Sì No c'è un altro No 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 Vi prego No 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 Vi prego Vi prego Vi prego Eh rip 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 Dammi tutto No rip Addio signori Addio No dai Che palle Facciamo una strage Vado a fare una Signori ho un piano Ho un piano And this is the piano Addio Sì Bitch Prendi tutto Sì No no C'ha la mega armona questo Forse c'ha anche i poteri Signori Uccidiamo lui Ci prendiamo i poteri Uccidiamo lui E ci prendiamo E che schifo quest'arma Dio mio che schifo No se n'è andato Infamona Dove esce Dove esce Dove esce No dai È scappato Che schifoso Che schifoso E qua hanno già rubato Le robe di Doom Devo prenderlo per un sì No mi sono bloccato Rip Rip Ripperoni Rip Ripperoni No Sapete ora che ci penso È tipo la quinta volta Che ristarto la partita E non ho ancora preso i poteri Quindi credo proprio Che cambierò il titolo Tipo Come non ottenere i poteri Perché Sta diventando un fallimento Questo video Comunque Secondo me Le guardie dicono Wey What's up Io la butto lì Poi fatemi sapere nei commenti Comunque questo video Sta diventando un fallimento Perché Non riesco a ottenerli Lì c'è un tizio Eeeh In faccia all'aguatone Sì faccia all'aguatone Aspettiamolo Ora quello che sta facendo stragi Ma muori Ma tipo Io e questo qua sotto Non potremmo aiutarci a vicenda Per uccider quello Ok ci ho pensato io Ah Ce li ha lui i poteri Signori A lui i poteri Ma muori Signori Signori Amici Amici di striscia Abbiamo i poteri Allora Facciamo così Facciamo così Dammi tutto Eeeh Che bello Che bello Che bello Che bello Ora vinciamo coi poteri Ve lo garantisco Ve lo garantisco Poteri a me Togliamo la mitraglietta Eeeh Togliamo un attimo questa E apriamo il cavo Sii Che bello Uh guarda che armi Che bello queste armi Bene 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 No 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 vi prego No 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 Cabo aperto E ora apriamo anche sto tip No scusa 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 Porca Dai Signori Signori Io ci ho provato in tutti i modi Basta Sapete come veramente dovete ottenere i poteri su fortrain Così Chiudi applicazione Ok Alla prossima